Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi in Alta Valle Cannobina, in località Creves, la peggio per un motociclista, un trentenne novarese in sella ad una Kawasaki che, mentre saliva, si è scontrato con un'auto d'epoca in discesa dalla valle, veicolo che stava partecipando ad un raduno in corso sul territorio. Il giovane ha riportato un serio trauma facciale, purtroppo nella caduta avrebbe picchiato il capo contro un muretto e il casco si sarebbe rotto. Il motociclista era in compagnia di due amici. L'incidente in un tratto di strada particolarmente stretto. Sono intervenuti l'ambulanza 118 e l'elissoccorso sul posto in appoggio all'elissoccorso anche la stazione Val Grande con il gruppo di Cannobio del soccorso alpino decima delegazione Valdossola e la stazione di Vigezzo in aiuto. Il ferito è stato elitrasportato all'ospedale maggiore di Novara. Sul posto anche la polizia locale di Cannobio.